Il sistema di porti turistici dei Baleari è un sistema sviluppato con l'esperienza, perché noi abbiamo lì, come voi, la geografia, la bellezza naturale e abbiamo preso dell'esperienza, dei errori fatti, abbiamo cambiato la cosa per farla funzionare il meglio possibile. È assolutamente pratico e sempre stiamo vedendo di rinnovare le cose che sono più fevole e adattarla al presente. La partnership pubblico-privata è assolutamente importante, perché è il valancio entre le due forze che operano in tutto, il controllo e la voglia di fare. E pensi soltanto che si va a costruire un ospitale e non si chiede a un medico, a un infermiere, dei dettagli, pratiche di come farlo perché l'utilizzo sia ottimo. è impossibile, così la parte pubblica doveva prendere dalla parte privata come si utilizza, cosa si vuole fare e così reagire e permettere con certo limite il sviluppo del progetto. Grazie per la visione!